La Coppa Oro delle Dolomiti è ai nastri di partenza. Dal 14 al 17 luglio Cortina d'Ampezzo accoglierà gli oltre 70 equipaggi iscritti alla tradizionale manifestazione dedicata alle auto storiche ad attenderle i 440 chilometri di prove immersi nei panorami mozzafiato delle montagne dolomitiche. L'evento è organizzato dagli Automobile Club Nazionale e Bellunese con la collaborazione di Club AC Storico e AC Sport. Saranno 10 le nazioni rappresentate con piloti da Belgio, Germania, Grecia, Inghilterra, Olanda e persino una delegazione dal paese del Sol Levante. L'abbiamo preparata veramente bene, il percorso è meraviglioso, abbiamo un 20% degli equipaggi con rappresentanza straniera, in particolar modo mi preme sottolineare l'importanza di avere 5 equipaggi giapponesi al via, una cosa direi abbastanza incredibile, considerando che per un tedesco venire a Cortina non è poi un viaggio incredibile, ma per un giapponese vuol dire programmare con tanto anticipo queste trasferte. Una passione è quella per i veicoli d'epoca che sembrano sentire il passaggio del tempo, ma anzi si rafforza sempre più tra le nuove generazioni. In questo momento in cui il mondo dell'automobile sta evolvendo, sta subendo un'accelerazione verso la propulsione elettrica, verso sistemi alternativi. Il passato di classe, il passato bello, rimarrà comunque a testimonianza di anni di grande sviluppo dell'industria italiana, quindi le automobili per la loro parte saranno da considerare quelle belle, saranno da considerare degli oggetti e delle opere d'arte. Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza l'aiuto degli sponsor, tra questi figura banca Biper, che con il mondo dei motori ha un rapporto molto speciale. Questo abbinamento anche con la nostra banca, che ha il cuore pulsante a Modena, che è la culla della Motor Valley, con la tradizione motoristica italiana, mi sembrava il connubio corretto per poter partecipare come partner all'evento della Coppa d'Oro.